Ah, come sei antico! Con uno stereo come il mio, vorrai scherzare! Ma ti sembra una discoteca aggiornata, questa? Beh, faccio del mio meglio! Il tuo meglio si chiama Charleston! In anteprima tutta la musica d'importazione, dischi, nastri, video e compat dischi! Ora so come essere up to date! Certo! Un orecchio alla radio e un'occhiata a Charleston per avere il masso del momento! Charleston, via Dante Alighieri 84 a volte più a sconto! I dischi che preferisci? Nel tuo negozio preferito!